In occasione dell'inaugurazione del Festival Architettura in Città, Action Sharing ha presentato l'Orchestra Meccanica Marinetti, costituita da due robot percussionisti che hanno suonato dal vivo su bidoni d'acciaio sotto la guida di un performer, proponendo in anteprima italiana Hamlet, nuova composizione di Angelo Comino. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS